E viene a cantare che vamos a triunfar, avanza ya, banderas de unirá, y tú vendrás marciando junto a mí, ya sí verás. Portavate in spalla una bara, che cosa rappresenta questa bara? Rappresenta che il retiro non può lavorare più a 67 anni, perché a 67 anni arriva già molto nella cassa, o metto in una cassa e non può lavorare più. Lei porta sul petto il numero 41, cosa significa? Sì, perché abbiamo 41 anni di lavoro e non ci fanno andare in pensione, e stiamo protestando per questo, siamo un gruppo di milazzo qua della provincia di Messina. Insieme agli arresti lavorativi purtroppo, questo governo ha deciso così, invece di premiare che ha fatto 40 anni, lui ci ha premiato così, facendo più lavoro per pagare vitalizi e privilegi a questi signori. Il vostro slogan recita meno sprechi e più dignità. Sì, meno spreco conoscere più dignità. Il problema che il governo ha posto dopo l'approvazione del Job Act ha portato a dettagli che non consentono più ai lavoratori di andare avanti. E in più nella riforma è anche previsto il taglio sulle pensioni. Per quanto riguarda i disoccupati, che prima avevano sei mesi di disoccupazione, che venivano passati sei mesi di contribuzione figurativa, adesso con la riforma anche lì sono stati ridotti il numero di mesi di contribuzione figurativa. Anche la FIOM oggi è scesa in piazza a manifestare? La FIOM è scesa in piazza in tutta Italia a manifestare, convintamente, atteso che un conto è lavorare in tuta, un conto è lavorare in giacca e cravatta. Per ciò stesso noi chiediamo che venga riformata il sistema pensionistico voluto da Monti e dalla Fornero per tenere conto dei lavori usuranti e appunto di tenere conto di chi fa l'operaio e di chi fa l'impiegato. Dopo 41 anni di contributi oggi è disoccupato? Sì, senza soldi. Lei che lavoro faceva? Allora io ho fatto diversi lavori, ho lavorato presso un bar, ho lavorato 21 anni, poi ho lavorato in un'agenzia di recapito, poi per poste italiane e dopodiché poste italiane hanno deciso di non avere più il servizio e hanno licenziato in tutta Italia e adesso mi ritrovo in mezzo alla strada. Anche lei è disoccupato? Anche io sono disoccupato, sì. Quanti anni di contributi ha versato? Io ho 34 anni di contributi e 60 anni di età, quindi ancora non c'è niente da fare, se non cambia la legge a Fornero, ho un paio di anni che parlo soltanto parole e basta, i rifatti niente completamente. Oggi è anche i metalmeccanici presenti alla manifestazione che si sta tenendo qui a Messina? Sì, è importante la presenza anche perché questa riforma, la riforma Fornero, deve essere sostituita e cambiata perché bisogna dare la possibilità a chi è pronto alla pensione di andare in pensione in maniera tale che i giovani possano accedere al mondo del lavoro. A livello nazionale i sindacalisti avrebbero dovuto dire no con fermezza alla legge Fornero per evitare di arrivare a questo. Siccome lo Stato è in deficit e allora bisogna tagliare, ma perché non cominciavano a tagliare laddove i soldi ci sono dai ricchi, dai politici primi che ancora godono di pensione, di privilegi e a noi ci fanno morire di fame. Bisogna cambiarla questa norma e bisogna cambiarla con le richieste che fanno CGL e CISLEWILL, per questo chiediamo da tempo questo tavolo, per questo stiamo facendo e stiamo continuando questa mobilitazione.